Quale futuro per la sanità? I medici e le tusei si interrogano in un dibattito con esperti nazionali. Quale futuro per la sanità pubblica italiana? Sull'argomento ci si interroga ormai da diversi anni e ne discutono i medici siracusani nella sede dell'Ordine in Corso Gialone in un incontro dedicato alla presenza del Presidente Nazionale della FNOMCEO Filippo Anelli che ne sarà il relatore principale della Direzione Generale dell'Aspri di Siracusa con cui l'Ordine ha instaurato un costruttivo dialogo all'insegna della forte collaborazione istituzionale tra ente dello Stato che operano all'interno della medesima mission ad accogliere il Consiglio Nazionale dell'Ordine, il Presidente dell'Ordine di Siracusa Anselmo Madeddu e il Consiglio Provinciale che sono i promotori dell'evento. Negli ultimi anni, spiega Madeddu, stiamo assistendo a un progressivo impoverimento del sistema sanitario pubblico lo stesso che molti altri paesi ci avevano a lungo invidiato. Pertanto abbiamo inteso analizzare dettagliatamente alcuni punti che andranno subito dopo affrontati nelle varie sedi istituzionali e politiche per frenare una involuzione annunciata tra queste la necessità di un turnover favorito dalla revisione degli accessi universitari la necessità di adeguamento degli organici e di riflesso dell'innalzamento degli standard qualitativi ma anche e soprattutto l'urgenza di tutele maggiore è ben definita per gli operatori sanitari di ogni ordine e grado con la previsione di una procedura d'ufficio in caso di aggressioni e atti di violenza nei confronti dei professionisti, in particolare quelli impegnati in prima linea nei pronto soccorso e la valutazione di un possibile scudo penale per i medici. Solo restituendo infatti una solida dignità a questa professione, rendendola attrattiva e accessibile alle nuove generazioni, si potrà invertire la rotta verso un futuro sanitario pubblico adeguato ai tempi e concorrenziale come l'avere in passato, conclude Madeddo.